Premio il Davide di Bernini 2015 al maestro Frontoni Fortunato Io ho fatto tanti chilometri per rivedere voi, rivedere gli amici del comitato quindi è stata una bellissima manifestazione questa sera anche se è difficile parlare dopo tutto quello che abbiamo visto e sentito sarebbe meglio non parlare per meditare, per riflettere quindi meglio non parlare, meglio riflettere Ecco io non voglio fare un lungo discorso, mi limito soltanto a ringraziare tutti quanti per il lavoro che fate e per la serietà che mettete in questo lavoro sia i fratelli Chiavarini, quindi lei direttore come presidente di questa nuova direttore di questa nuova Accademia di Italia in Arte quindi tutto il comitato d'onore ormai prima mi sono rivisto con tanti amici che fanno parte del comitato d'onore ma è stato per me un grande piacere come è un onore per me stare qui a ricevere il Davide quindi vi ringrazio La cosa più interessante, più bella di questo evento è che stasera quando torneremo ognuno nelle proprie abitazioni sapremo con certezza di essere usciti da questo evento molto più ricchi sotto l'aspetto culturale e intellettuale abbiamo visto tante persone che si sono avvicinate sul palco che ci hanno offerto emozioni, che ci hanno offerto idee ci hanno offerto un po' di serenità in questo mondo certo, con la positività si abbatte la negatività grazie maestro consegniamo il premio grazie a tutti